ciao sono max de vergori imprenditore mindset coach trainer e fondatore di modelli di successo il progetto serio ed etico che ti aiuta ad allenare il tuo mindset con i modelli di comportamento delle persone che raggiungono grandi obiettivi persone di successo prima di iniziare mi raccomando se i contenuti di modelli di successo ti piacciono pollice in su e iscriviti ai nostri canali per gli aggiornamenti del progetto questa è la prima di una serie di 13 puntate dedicate a benjamin franklin ed in particolare a quello che lui chiama piano per raggiungere la perfezione morale in queste puntate analizzeremo in dettaglio quelle che lui chiama birtu affinché tu possa prendere degli spunti e delle idee per crearti il tuo personalissimo piano di perfezionamento franklin fu tra i protagonisti della rivoluzione americana e di dei contributi importanti allo studio dell'elettricità fu anche un appassionato di meteorologia e anatomia inventò il parafulmine le lenti bifocali l'armonica bicchieri e un modello di stufa caminetto noto nel mondo anglosassone come stufa franklin perché franklin decise di lavorare su questo coraggioso progetto di perfezione morale perché aveva compreso che se voleva migliorarsi come individuo e tendere alla perfezione doveva in ogni modo possibile e attuabile modificare i suoi modelli comportamentali in favore di nuovi e migliori comportamenti di fatto franklin non fece altro che crearsi un piano di crescita personale al fine di migliorare come individuo in diversi aspetti dell'esistenza ne ho fatto una serie perché penso che gli argomenti che analizzeremo in queste puntate possano esserti utili per migliorare la tua vita e portarti con più facilità a raggiungere ciò che più desideri come dice franklin stesso che perciò l'essere virtuosi è nell'interesse di quanti aspirano alla felicità anche su questa terra e sulla base di questa semplice constatazione avrei tentato di convincere i giovani che non esistono qualità che meglio della probità e della dirittura morale possono favorire l'ascesa della gente di condizione sociale modesta dunque iniziamo sono 13 le virtù di cui parleremo in questa serie ogni virtù è accompagnata da un precetto che esprime il modello comportamentale che va messo in atto in quel preciso contesto persino l'ordine delle virtù è strategico in quanto franklin pensava che acquisendone prima una piuttosto che un'altra si riusciva con più facilità ad assimilare quelle successive vediamole la prima virtù la temperanza ovvero non mangiare a sazietà e non bere fino a diventare euforici la seconda virtù il silenzio ovvero non parlare se non perrecare beneficio a te stesso o ad altri evita i discorsi futili la terza virtù l'ordine ovvero ogni tua cosa abbia il suo posto a ciascuna delle tue attività dedica il giusto tempo la quarta virtù risolutezza ovvero stabilisci di fare ciò che devi fare ed esegui senza farlo quanto hai deciso la quinta virtù parsimonia ovvero non spendere nulla se non per far del bene a te stesso o ad altri vale a dire non sprecare nulla la sesta virtù operosità ovvero non perdere tempo sii sempre impegnato in qualcosa di utile evita ogni azione superflua la settima virtù sincerità ovvero non ricorrere a sotterfugi che possono causare danno i tuoi pensieri siano innocenti e giusti e tali rimangano se decidi di esprimerli l'ottava virtù giustizia ovvero non offendere nessuno facendogli un torto o trascurando il dovere di fargli del bene la nona virtù moderazione ovvero evita gli estremi trattieniti dal risentirti dei torti per come pensi che meriterebbero la decima virtù pulizia ovvero non tollerare alcuna sporcizia nel corpo negli abiti o in casa l'undicesima virtù tranquillità ovvero non agitarti per le innezie o per gli accidenti comuni e inevitabili la dodicesima virtù castità ovvero divenere usa raramente solo per mantenere la salute o procreare mai fino a saziarti o a infiacchirti o a pregiudicare la tua o l'altrui pace o reputazione l'ultima l'umiltà ovvero imita gesù e socrate bene parliamo quindi della prima la temperanza il precetto è non mangiare a sazietà non bere fino a diventare euforico o euforica in questa primissima virtù franklin impone l'accento sul benessere fisico da cui poi deriva tutto il resto credo che non sia un caso che franklin abbia messo come prima virtù proprio questa visto che il controllo dell'appetito e delle dipendenze alimentari è una delle cose più importanti e per molti più difficili da mettere in pratica dunque partiamo da un presupposto un terzo della popolazione mondiale soffre di eccesso di peso ovvero è in sovrappeso o è obesa con questi numeri non possiamo starcene con le mani in mano aspettando che il nostro corpo dia segni di cedimento ma dobbiamo agire per tempo ed essere lungimiranti iniziando a prevenire eventuali problemi che potrebbero verificarsi in futuro ne ho già parlato in un podcast precedente la vecchiaia si prepara in gioventù è la prima cosa da fare per apportare un miglioramento significativo alla nostra vita è migliorare le nostre abitudini alimentari visti numeri così allarmanti domandarsi come mai ci sono così tante persone in sovrappeso e che soffrono per questo motivo sarebbe non solo lecito ma anche necessario ebbene io ho trovato una risposta a questa domanda che mi ha letteralmente salvato dall'obesità la risposta che ho trovato è tanto semplice quanto vera ed è questa siamo in sovrappeso perché mangiamo più del dovuto ma va direi tu sì però aspetta ti chiedo di non confondere la semplicità di questa risposta con un semplicismo poiché dietro questa all'apparenza scontata risposta si nasconde la più pericolosa delle trappole farò un podcast dedicato su questa faccenda ciò che voglio che tu sappia oggi è che se è vero che più o meno tutti sanno che mangiare troppo fa ingrassare non tutti però riescono a comprendere i meccanismi che si celano dietro il mangiare troppo infatti una buona domanda è perché mangiamo troppo già trovare una risposta a questa seconda domanda non è cosa immediata scavando nelle profondità della mia mente sono riuscito a trovare alcune risposte che mi hanno aiutato a perdere oltre 10 chili con facilità e che mi hanno consentito di riprendere il controllo dei miei appetiti e soprattutto di riprendere il dominio di me stesso noi mangiamo troppo a causa di un doppio meccanismo messo in atto dall'industria alimentare mondiale un lavaggio del cervello potente e una ricerca continua sul gusto dei cibi bisogna ricordare una cosa importante l'industria alimentare è un business e come tale deve vendere non gli importa che tu sia in sovrappeso o soffra di obesità o malattie varie l'industria non si ferma né per te né per i tuoi problemi o malattie deve vendere sempre e comunque è una macchina è una macchina per fare soldi e non ci penserà due volte a venderci qualcosa di deleterio per noi pur di far soldi ed ecco perché il marketing alimentare è un incessante martellamento che deve fare breccia nel nostro cervello pensaci da quando ci alziamo la mattina e per tutto il giorno 24 7 12 mesi all'anno non facciamo altro che essere bombardati da messaggi che inneggiano a mangiare il risultato di questo bombardamento è un lavaggio del cervello continuo che ci fa credere di dover mangiare sempre in ogni momento questi cibi apparentemente deliziosi ma che guarda caso sono spesso poveri di sostanze nutritive importanti per il nostro corpo quindi si inizia con la pubblicità del croissant classico al mattino per continuare poi con i vari snack patatine barrette biscotti delle varie pause mattutine pomeridiane poi pranzi e cene fatti di paste pizze panini di ogni tipo e nel frattempo il tuo cervello assorbe senza filtro immagini e suoni che ti invogliano a mangiare ancora e ancora immagina quindi questo lavaggio del cervello per anni e anni e avrai una persona completamente trasformata dove la fame viene messa in secondo piano rispetto al gusto quante volte hai visto una pubblicità o un'immagine ho sentito un odore di un cibo e ti è venuto quel leggero languorino che ha innescato poi l'atto di andare a mangiare anche se non avevi fame hai comunque preso quelle patatine quel panino quello snack e lo hai mangiato perché volevi sentirne il gusto in bocca ripetendo questo processo per anni e anni il sovrappeso e l'obesità sono praticamente inevitabili se ci pensi ovunque ti giri trovi tanto di tutto anche questo pulenza da cui siamo circondati fa la sua parte magari entri nel supermercato con l'idea di comprarti una mela ed esci con un carello pieno di roba inutile e dannosa per uscire dalla trappola ho escogitato un sistema che mi ha consentito di riprendere il controllo ho smantellato di fatto il lavaggio del cervello pezzo per pezzo e ho compreso i trucchi e meccanismi che utilizzano le industrie alimentari per farmi mangiare di più infine ho scoperto una cosa molto importante ovvero che bisogna distinguere dal mangiare per fame e mangiare per noia o per gusto il primo passo per smantellare il lavaggio del cervello perpetrato dalle multinazionali del cibo è capire che abbiamo bisogno di poco cibo per sopravvivere di fatto si tratta di ricongiungersi con la natura e di ascoltare il proprio corpo hai mai visto un animale in sovrappeso io no in natura tutti gli animali mangiano il giusto ed è per questo che non hanno problemi di peso se noti gli unici animali obesi perché esistono anche gli animali obesi purtroppo sono quelli domestici ovvero quelli che hanno subito le abitudini alimentari dei loro padroni nel mio percorso la prima cosa che ho fatto è stata diminuire drasticamente le porzioni ho dimezzato tutto pasta riso carne condimenti ho aumentato i quantitativi di verdura e frutta e ho incrementato gli allenamenti ho aggiunto anche il pesce un alimento che non mangiavo molto volentieri prima la cosa sconvolgente che ho scoperto è che molte di quelle ricerie che si dicono sul cibo sono assolutamente errate ho letto centinaia di articoli e libri sull'alimentazione e sull'allenamento e tutti parlano di concetti complessi e cercano di spiegare perché si dovrebbe mangiare una cosa piuttosto che un'altra ma nessuno e dico nessuno parla del fatto che bisogna mangiare poco mangiare il giusto e non per dimagrire ma perché semplicemente non serve mangiare tanto il nostro corpo è assolutamente efficiente sotto tutti i punti di vista e il primo beneficio che si ha nel mangiare poco che ripeto si può tradurre anche nel mangiare il giusto è il dimagrimento ovvio che vale anche il contrario anche chi è in sottopeso mangiando il giusto si riallinea con il suo peso ideale in definitiva se siamo in sovrappeso è perché stiamo mangiando più del dovuto e usare il principio di franklin sul cibo è un ottimo inizio quindi vuoi dimagrire non mangiare a sazietà molto semplice se ti alzi da tavola e ti senti bene non pesante e con un leggero appetito ancora quindi non sei sazio o sazia quella è la strada giusta io anche se inconsapevolmente non ho fatto altro che adottare questo principio di franklin e i risultati sono stati pazzeschi soprattutto a livello di mindset anche sul bere è lo stesso eccedere con l'alcol ti porta a scombustolamenti di vario tipo e a sbronzarti per poi alzarti con il mal di testa e lo stomaco in subbuglio per carità se ti vuoi sbronzare una sera va bene mi raccomando sempre responsabilmente ma bere tanto ad ogni pasto e ogni giorno non può fare altro che farti male e visto che hai un solo corpo a disposizione è meglio salvaguardarlo vuoi mettere in atto il sistema del successo di benjamin franklin ottimo inizia con questa prima virtù la temperanza prossimamente analizzeremo le altre virtù al fine di creare un vero e proprio piano di crescita personale esponenziale bene siamo giunti alla fine di questa puntata e noi ci vediamo al prossimo appuntamento un caro abbraccio dal tuo max Acriviti al canale